Concept, che ridefinisce i canoni della berlina sportiva secondo la casa del Leone, la 508 Peugeot Sport Engineered è una ibrida plug-in con trazione 4x4 e ben 400 cavalli, ideale discendente di quella Peugeot 405 T16 nata a inizio anni 90. Comoda ed elegante, grazie al design firmato Pininfarina, era anche una autentica sportiva di razza per via del motore 2 litri turbo 16 valvole che arrivava a derogare fino a 220 cavalli, scaricati a terra da una efficace trazione integrale permanente che le permetteva di raggiungere una velocità massima di 235 km orari. La versione più dinamica della berlina media del Leone era il riferimento della categoria per lo straordinario equilibrio tra prestazioni e sicurezze di guida, capace di offrire, senza penalizzare il comfort, emozioni vicine a quelle delle mitiche berlinette Peugeot, regine delle competizioni su strada.